buongiorno amici amiche di nuova news 24 ad amici oltre al talento sono nate delle coppie maddalena svevi mattia zenzola sono scoppiati dopo poco ma subito dopo federica andreana e piccolo g sembrano aver spiccato il volo mentre cric e isobel ancora sono incerti parliamo di una nuova coppia megan e gianmarco i due sembrerebbero essere stati veramente al centro di tantissime polemiche proprio per la loro relazione traballante ma sembrerebbe che fuori dalla casa ed amici i due sembrano vivere insieme si diciamo che da quello che si evince anche da instagram dai profili social i due sembrerebbero essersi trasferiti a milano per andare a vivere insieme nell'ultimo post pubblicato da gianmarco si vedono i due insieme nella nuova casa durante attimi di vita quotidiana e momenti scherzosi a corredo delle foto pubblicate il ballerino ha scritto con grandissima contentezza first lady in milan confermando che il trasferimento in entrambi è avvenuto e quindi entrambi sono a milano nei prossimi progetti entrambi andranno quindi a new york per un certo periodo di tempo per approfondire gli studi grazie ad alcune borse assegnate dalla produzione di amici i due quindi sembrerebbero avere un futuro prospero e non ci scommetteva veramente nessuno invece torniamo a parlare di cricca e isobel i due sono incerti cricca è andato via isobel però non sembra avere l'intenzione di continuare la frequentazione di cricca fuori mentre proprio federica andreana e piccolo g sembrano andare a gonfie vele amici di nova news 24 queste sono le coppie nate ad amici vogliamo sapere chi tra queste coppie per voi è il vostro preferito intanto diteci cosa ne pensate del nuovo amore tra gianmarco e megan ria i due ovviamente si erano molto staccati per un periodo di tempo poi si sono ritrovati e fuori sembra andare tutto ricordiamolo a gonfie vele intanto se vi è piaciuto quest'articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nuova news 24